In questa prima settimana di luglio è il comune di Colli al Metauro il nuovo protagonista di 50 per 50 capitali al quadrato, dedicato alle eccellenze del territorio con un programma che parla di borghi di qualità. Il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni di Pesaro e Urbino a turno, capitale per una settimana lungo il 2024. Piazze e vicoli del centro storico saranno animati da conferenze, concerti, laboratori di poesia e ceramica e tanto altro, un programma intenso già iniziato. Mercoledì nel suggestivo scenario del balì il maestro Glauco Venier ha tenuto un concerto di pianoforte al tramonto intitolato Scarafaggi e altri insetti musicali. Poco dopo il professor Umberto Galimberti con l'etica del viandante. Forte la risposta del pubblico che ha riempito tutti i posti a disposizione sedendosi anche sul prato in una serata inizialmente pioviginosa che si è poi rasserenata. Colli al Metauro, progetto Pesaro 2024, 50x50 capitale della cultura, riassumiamo il programma di tutta la settimana. Oddio, riassumere il programma della settimana è una cosa difficilissima perché era veramente un programma ricco di eventi. Abbiamo iniziato lunedì con l'inaugurazione e il life motive comunque di questa settimana è stata la valorizzazione di quelli che sono i nostri borghi, oltre logicamente a questa splendida location in cui siamo questa sera, che è il Museo del Bali, che lo ricordo sempre a tutti, è stato tra i primi quattro musei in Italia, scientifici in Italia, questo è un riconoscimento da parte del Ministero del NUR, al pari di Firenze, Milano e Napoli. Quindi parliamo di un'eccellenza nel nostro territorio e proprio sull'eccellenza abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Eccellenze no gastronomiche, dall'olio d'op, delle nostre nostre reali, la casciotta d'Urbino e non da ultimo la famosissima perangelica di Solungarina dal punto di vista della degustazione, ma poi la bellezza dei nostri cinque borghi che sono inimitabili. Oggi era qui una troupe di Rai 1 che svolgerà un servizio su questa settimana, in particolare sul Museo del Bali e ha visto alcuni borghi e sono rimasti incantati e quindi è un biglietto da visita importante che solo grazie alla sensibilità di Vimini, il vice sindaco di Pesaro che ha dato con questa intuizione la possibilità a tutti i comuni, i 50 comuni della nostra provincia di poter partecipare, dà una possibilità, un biglietto, una finestra verso questi territori per farci conoscere. Scarafaggi e altri insetti musicali, un titolo particolarissimo che ha scelto per questo concerto, ci racconti? È nato da un'idea di Paolo Fresu che mi ha invitato a suonare a Berchid al suo festival e mi ha chiesto cosa fai, faccio cose dei Beatles, voglio fare una cosa un po' semplice, un po' creativa, però suonerò anche brani di compositori anche contemporanei, da Padmettini a Key Jarrett a Jacopastorius che si sono ispirati alla musica dei Beatles, allora lui ha avuto questa idea, facciamo allora Scarafaggi ed altri insetti musicali. Bello, mi è piaciuto, l'ho fatta.